Un saluto a tutti i lettori di Readball.com, siamo qui con Raffaele Cinquegrana di LG Italia. Ciao Raffaele, grazie per il tuo tempo. Siamo ovviamente a Barcellona per il Mobile World Congress e abbiamo tre domande scottanti sui nuovi prodotti di LG. Iniziamo subito parlando della nuova fascia media. Abbiamo visto quattro dispositivi, tutti sotto i 200 euro, però gli utenti ci hanno chiesto una cosa. Perché curvo sulla fascia media, addirittura sulla fascia medio-bassa potremmo dire, e perché nel fare questo si va a sacrificare il sensore di luminosità? Il sensore di luminosità è una funzionalità che per noi non è mai stata molto importante nella fascia media. Se vi ricordate, siamo sempre stati criticati perché manca il sensore di luminosità sull'L5, sull'L5-2, sull'L7-2, sull'L40-50 eccetera eccetera. Per noi il sensore di luminosità è una funzionalità che per carità mettiamo sui prodotti top di gamma, ma sulla fascia media noi vogliamo differenziarci. E il sensore di luminosità non fa la differenza. Come dico sempre io, progettare un nuovo smartphone o qualsiasi altro prodotto è una questione di bilanciare le caratteristiche. E allora noi che cosa facciamo normalmente? Invece che focalizzarci su queste cose che meno male tutti quanti potrebbero avere, io posso capire che è comodo. Però preferiamo cambiare qualche cosa, preferiamo magari puntare sul display. Per esempio il Magna oppure lo Spirit hanno un display IPS con tecnologia Incel, che normalmente si ritrova soltanto sulla fascia più alta. Un display di qualità superiore. Abbiamo delle batterie che hanno una capacità più alta. Abbiamo messo per esempio anche l'ultima versione di Android, l'Hollipop. Per carità, cose che uno può dire, beh però alla fine per me il sensore di luminosità era più importante. Ma la nostra direzione è quella di dire, vogliamo fare qualche cosa di diverso. Oggi, con la nuova gamma, abbiamo degli smartphone in fascia media che anche soltanto a colpo d'occhio possiamo dire, solo LG ha degli smartphone leggermente curvi. Perché li abbiamo fatti leggermente curvi? Perché sono più ergonomici, anche semplicemente quando devo utilizzarli con una mano sola. Quando li utilizzo per telefonare, magari il microfono è un po' più vicino alla mia bocca. Quindi diamo questo valore aggiunto in termini di design. Perdonatemi se vi dico che dal punto di vista mio personale, quindi Raffaele Cinquegrana, avere un display migliore, una batteria che mi dura di più, un design che è unico, è più importante rispetto a non avere un sensore di luminosità che basta tirar giù il menu a tendina e abbiamo lo slider molto molto comodo. A meno che uno non faccia luce buio, luce buio, luce buio, non lo vedo questo gran problema. Poi magari per qualcuno è il problema del secolo e non è intoccabile, per carità, non sceglierai il nostro prodotto. Rispondiamo appunto a quella che era una domanda e qui finalmente abbiamo la risposta. Ricordati sempre, bilanciare le caratteristiche. È una coperta, tiri da una parte e tiri dall'altra, se vuoi mantenere quel target di prezzo. Altrimenti è facile, sali col prezzo e metti tutto. Certo. Parlavi di display curvi, io tiro fuori dalla tasca il mio LG G Flex 2, non ce l'avete dato voi, quindi... Miracolo che ce l'abbia, perché ancora non l'abbiamo lanciato. Terminale, che ti dico, prime impressioni positive. Ci sono state però delle voci sul web, qualche addirittura, diciamo così, accusa. LG ha lanciato uno smartphone lento che lagga. Come ti senti di rispondere a queste accuse che sono state rivolte, critiche a LG? Beh, innanzitutto dovremmo provare gli smartphone che poi sono effettivamente per il nostro mercato. Io capisco che ormai il mercato della telefonia è un mercato globale, quindi si tende anche a comprare, a valutare dei prodotti che non sono per il nostro mercato. Quindi questa è la prima cosa. Iniziamo a vedere lo smartphone che lanciamo in Italia e poi magari possiamo giudicare un pochettino meglio. Dopodiché, un'altra cosa che è una verità, gli smartphone sono sempre in continua evoluzione. Per carità, se abbiamo fatto degli errori, nostro compito, nostra promessa è quella di migliorare sempre l'esperienza d'uso. Come? Attraverso degli aggiornamenti puntuali e degli aggiornamenti che vadano sempre di più a migliorare le performance. Siamo sempre in ascolto su quello che dicono i vari utenti sui forum, sui siti. Monitoriamo, mandiamo costantemente i feedback ai nostri sviluppatori in maniera tale che il parere dell'utente sia sempre ascoltato. Quindi, per carità, massimo rispetto per tutte le recensioni o le anteprime che sono state pubblicate fino adesso. Vediamo poi il prodotto che uscirà in Europa e poi comunque state tranquilli che i prodotti sono sempre in via di divenire. Quindi a quel punto avremo la possibilità di ragionare a distanza di due settimane, un mese o due mesi o che e dire beh, alla fine LG ha migliorato. Ti ricordo anche per esempio cos'era successo col G3. Con G3 avevamo effettivamente avuto dei commenti, delle lamentele per quanto riguardava il surriscaldamento dello smartphone e poi l'abbiamo migliorato. La cosa importante è quella, siamo diventati molto, molto più reattivi nel seguire i feedback che ci vengono dati dal campo e implementarli con nuove versioni software. E questa è una cosa sempre molto positiva. Direi di sì. Ultima domanda. Qui abbiamo visto due nuovi orologi. Un orologio che vedremo, diciamo, a breve anche nel mercato italiano. Il watch urbane, questo è quello Android Wear standard, diciamo così, più rifinito rispetto al G-Watch R, eccetera. Evoluzione di LG G-Watch R. Ma più che l'evoluzione è un altro stile. Un altro stile. Cioè tu devi pensare al mondo dei wearable, non soltanto come un gadget tecnologico fatto di caratteristiche tecniche, ma devi pensare a un qualche cosa che una persona deve indossare. E dovendolo indossare deve adeguarsi al proprio stile, esattamente. Quello è il nostro obiettivo, dare la possibilità di soddisfare più gusti. E allora, G-Watch R, per magari chi voleva uno smartwatch un po' più sportivo, diciamo così, un po' più classico ed elegante, il watch urbane. Ma l'LTE, è vero che è un dispositivo pensato per il mercato coreano, però magari ce lo possiamo immaginare fa qualche mese, forse qualche anno, nel nostro mercato. Qual è il senso di fare questa innovazione, di portare la SIM a bordo di un orologio? Beh, la possibilità di avere uno smartwatch che sia effettivamente stand-alone. Abbiamo anche qui ascoltato alcuni commenti e diverse segnalazioni da parte di utenti, della stampa, le aspettative che ci sono. E oggi con gli smartwatch uno dei limiti, diciamo, degli smartwatch Android Wear, è che tu devi avere sempre con te il tuo smartphone. Prendi per esempio le persone che vanno a correre, oppure le persone che lo utilizzano magari per andare a fare delle attività fuori casa. Ecco, lasciare a casa lo smartphone può essere un vantaggio e allora a quel punto diamo la possibilità di avere una SIM card integrata, poter chiamare, mandare SMS, utilizzare il GPS. Ecco, uno dei grandi vantaggi di Watch Urbane LTE, quello che lanceremo in Corea, è che ha dentro anche il GPS e quindi hai la possibilità di avere tutta l'activity tracking completo senza doverti portare appresso lo smartphone. Ora poi, il fatto che ci sia dentro l'LTE o magari il 3G è semplicemente una questione di diffusione della rete. In Corea l'LTE è praticamente diffuso al 90% della popolazione, qui da noi è sicuramente di meno, quindi ipotizzando magari un orologio che arrivi da noi con connettività potrebbe arrivare prima 3G e poi magari avere l'LTE. Quindi però poi non sono costretto a comprare G3 o G Flex 2 se voglio utilizzare questo smartwatch? Esattamente, l'indipendenza dallo smartphone è il fattore chiave per questo nuovo orologio, ovvero la possibilità di fare tutto lasciando lo smartphone a casa. Perfetto, io Raffaele ti ringrazio per il tuo tempo. Grazie a voi. È stato un piacere fare queste interviste in modo da aver fugato un po' dei dubbi che i nostri utenti hanno avuto nel corso di questi giorni dopo le presentazioni di tutte queste grandi aziende. Io ti ringrazio nuovamente e noi ci vediamo al prossimo video qui dallo stand di LG al Mobile World Congress di Barcellona per Riddle.com, Andrea Ricci.